cioè io ho appena finito di lavorare adesso in questo momento e volevo fare questo post partita non so neanche se mi vedete in questo momento ok spero di sì tra poco si spegnerà sicuramente la luce dovevo fare assolutamente questo post partita di modena parma terminato col punteggio di 3 a 0 per il modena un derby delizioso direi praticamente per noi crociali proprio al bacio fantastico allora raga ci hanno massacrato ci hanno massacrato ecco si è spento visto sapevo io ci hanno massacrato non abbiamo capito niente dall'inizio alla fine sono riuscito a vedere tutta la prima mezz'ora tranquillamente ma poi ho visto ovviamente qua stralci la partita in qualche modo tra un cliente l'altro sono riuscito a vederla non abbiamo capito nulla raga non abbiamo fatto praticamente nemmeno un tiro in porta tra l'altro non conterei neppure il tiro di chiara da fuori area l'unico tiro centrale possibile della partita non abbiamo fatto neanche un tiro in porta siamo stati penosi uno su tutti sicuramente anzi due su tutti sicuramente la difesa balo gosorio che si dimostra essere ancora una volta veramente la cosa peggiore che si possa vedere in un campo di calcio oggi sono stati scandalosi sia uno che l'altro il sì io lo so già che qualcuno sta già iniziando a dire ma papirus il primo gol era fuori gioco il secondo invece c'era fallo su balog no no balog e osorio in quella circostanza lì non sono da giustificare da giustificare non sono da giustificare per errori del genere sono errori gravissimi ma tutta la squadra in generale oggi ha fatto pena io non voglio sentire giustificazioni riguardo l'arbitro perché abbiamo fatto pena schifo 3-0 netti muti silenzio e star sotto i tavoli non dobbiamo essere arrabbiati in generale perché comunque soltanto la terza sconfitta nell'arco del campionato quindi un campionato in cui siamo ancora primi a più 4 dalla seconda e dalla terza non dobbiamo essere arrabbiati però è un grosso campanello d'allarme per dire oh hai perso 3-0 un derby quindi già questo fa capire tante cose e hai perso una partita netta 3-0 contro una squadra di medio passa classifica cioè se vai a vedere i nomi di chi ti ha assegnato ti viene a dire ma chi cazzo è sta gente eppure eppure oggi hanno fatto una partita clamorosa sono stati bravissimi quelli del modena non ci hanno fatto capire niente non abbiamo capito nulla quindi di questo deve essere un grossissimo campanello d'allarme per la prossima perché perché la prossima abbiamo il venezia ragazzi abbiamo il venezia la prossima non possiamo sbagliare pure quella ok tra l'altro piccola parentesi io so già che qualcuno sta dicendo è ma i cambi non mi sono piaciuti pecchia ha sbagliato la partita si va bene pecchia può anche aver sbagliato alcune cose raga ma oggi in campo c'erano i giocatori c'erano i giocatori che oggi non hanno capito niente non gli veniva nemmeno un passaggio giusto non riuscivano in nulla c'è molli flaccidi poca poca grinta e voglia io non lo so veramente io io spero veramente che sia stata l'ultima partita tra l'altro la peggiore in assoluto dell'anno però sia stata l'ultima partita in cui abbiamo visto un parma così orribile schifoso veramente speriamo bene incrociamo le dita perché la prossima non possiamo assolutamente permetterci di perderla perché intanto le altre due cremonese venezia ci stanno qua qua il fiato ce l'abbiamo qui quindi occhio occhio perché adesso fanno paura con una sconfitta del genere fanno tanta paura ma fanno paura perché l'abbiamo persa prima di tutto qui e poi fisicamente e tatticamente fatemi sapere un commento qui sotto cosa ne pensate domani se riesco vi porto un po spartita un po più tranquillo in cui analizziamo alcune situazioni lunedì assolutamente live di parma game pass sono io martedì